Musica Nel Venerdì Santo, come ogni anno a Santa Firmina, è tornata la Via Crucis, uno dei momenti rievocativi della passione di Gesù di maggior richiamo per i cittadini. Se è un re, ci guarda colore! L'evento, giunta alla sua ventesima edizione, ha preso avvio con la rappresentazione dell'ultima cena per concludersi con la crocifissione sulla collina di Caggialla. Oltre 200 i figuranti che hanno dato vita anche quest'anno alla rappresentazione, migliaia invece le persone che nel Venerdì Santo hanno seguito l'evento, diventato anno dopo anno un appuntamento fisso. Noi è da ottobre che abbiamo cominciato, perché abbiamo dovuto fare un pezzo di palcoscenico nuovo, perciò abbiamo dovuto un po' accelerare la mano d'opera e tutto. Comunque è contenta, vero? Sono contentissima e devo ringraziare tutti i paesani, è un caloroso grazie anche al comune di Arezzo. Grazie a tutti!